Musica Raimondo ora in attacco, Kerin aspetta di guardare la soluzione giusta Pereira su Martini che arriva assolutamente in ritardo Fermo troppo fermo Martini, Petricevic non lo aiuta Rete facilissima per Pereira Prantner, buona la scalata per Quegio Rete sul primo palo, più 3, Merano, Bassino, passeggia Una finta poi in crocio per Kerin Ancora Bardi, va lui, assist, no look per Alinco Vincerete e due minuti di sospensione, nettissimi Per Freud che finta in crocio con bronzo Tiro di bronzo, da posizione innaturale Qua Martelli si fa trafiggere Musica E' lui che va a spaccare la porta Con il gol della partita forse Proprio nel momento più importante Musica 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 Musica